Una serie di eventi organizzati dal Museo Nazionale d'Abruzzo per i 70 anni dall'eccezionale ritrovamento del Mammutta ha scoppito con tanto di logo che accompagnerà gli appuntamenti. Un documento esposto al castello attesta la data esatta del ritrovamento, non il 25 ma il 17 marzo del 1954. Ci sarà una mostra documentare al castello nel Bastione Est, visitabile dal 19 aprile, che permette di ripercorrere le fasi della scoperta, del recupero e dello studio del fossile. Importante sarà anche il tema dell'accessibilità inclusiva. A disposizione ci saranno documenti storici dell'archivio luce di Cinecittà da proiettare. È stata possibile anche la produzione di contenuti digitale 3D per la ricostruzione scala 1 a 1 del Mammut. Grazie ad un QR code sulla pedana si potrà avere un'esperienza di visita più dinamica di quando il fossile era in vita e tanto altro. Nel corso della conferenza la direttrice del Munda Federica Zalabra ha pure ricevuto il riconoscimento del premio Fossili Regionali 2023 per il Mammut. Noi oggi apriamo una serie di celebrazioni che riguardano il nostro mammut. La prima è una mostra documentaria interessantissima con documenti inediti. Tra l'altro si evince chiaramente che il Mammut non fu trovato il 25 marzo ma già il 17 marzo se ne era data comunicazione. Poi avremo altri eventi come per esempio quello che i visitatori potranno vedere già dalla prossima settimana, il Mammut vivo grazie ad una app. abbiamo modo di avere in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti dei modellini 3D per i non vedenti quindi l'esperienza della visita anche per i non vedenti e poi avremo un annullo filatelico nel corso dell'anno che sancirà l'importanza del nostro Mammut all'interno delle celebrazioni. Ovviamente dopo l'estate si concluderà con un convegno scientifico di grande importanza che vedrà anche i relatori famosi qui all'Aquila per poter parlare di paleontologia in maniera moderna. Una cosa che i nostri visitatori troveranno è a partire dalla prossima settimana le visite guidate fatte dai nostri assistenti per la fruizione e vigilanza in modo tale che il visitatore possa essere accompagnato, coccolato e possa entrare meglio all'interno del mondo della paleontologia.